C'è un po' di reticenza nell'usare l'app Immuni. Lei che cosa si sentirebbe di consigliare? C'è qualcosa che si può fare? Beh, io l'ho scaricata. Direi scaricatela perché tutte quelle perplessità sulla privacy vanno solo spiegate meglio. Non c'è nessuna violazione della privacy, non vi è un tracciamento della persona, anzi il sistema è veramente molto sicuro. E inserita in un sistema ovviamente di tracciamento di eventuali contatti, rassicura tutti e ci consente di tornare più liberi rispetto a quello che oggi purtroppo sentiamo ristretto.